Questa mostra siamo all'interno del decimo congresso nazionale della fisica medica che quest'anno si tiene qui a Mari alla Fiera del Levante. La mostra chiamata supereroi e radiazioni è nata da una collaborazione con appunto la nostra associazione italiana di fisica medica e il museo del fumetto di Milano da questa idea di creare questo parallelismo tra le radiazioni che utilizza il fisico medico nella routine clinica ospedaliera e appunto i supereroi Marvel. Abbiamo avuto l'ok della Marvel per utilizzare questi sette supereroi nati appunto attraverso questa interazione incidentale proprio con le radiazioni e quindi abbiamo creato questi totem, questi sette totem ciascuno per un diverso supereroi, ciascuno per una diversa tipologia di radiazione e spieghiamo poi nel terzo pannello che compone il triptico come il fisico medico, se vogliamo anche gli moderni supereroi nella lotta contro i tumori utilizza al meglio questo tipo di radiazione. Grazie a tutti!